Ricetta tiramisù La mia mamma mi ha iniziato a farlo nella maniera classica insomma I tempi sono un po' cambiati Adesso sono io che gli faccio vedere alla mia mamma come farlo Lo faccio un pochino diverso Ma qualche volta sì, certo Poi mando, se viene fuori qualcosa, un'intervista bellina la mando alla mia mamma Età ed altezza, facile facile Età 33, vado per 34, si vede ho capelli bianchi Altezza 1,80 Dove abito? Abito a Los Angeles dal 2008, dal gennaio 2008 Però adesso faccio avanti e indietro tra Italia e America Mi divido tra Milano, Lucca, Los Angeles, giro un po' tutto il mondo È americano Ma ho anche la cittadinanza americana E cittadinanza italiana, quindi entrambe Residenza americana, però nato e cresciuto in Italia, insomma Ah, un piercing? Beh, ce ne avevo parecchi, tanti Troppi forse Sulla lingua, sul naso, sul labbro, sull'orecchio, un po' ovunque Però li ho levati tutti, quindi non ne ho più Dove ha studiato? O dove non ha studiato, forse è meglio dire Ho studiato un pochino in Italia Ho fatto tre anni la prima superiore Ci avevo capito da capire bene un po' il tutto E poi finalmente mi sono diplomato mentre lavoravo Lavoravo come metalmeccanico inizialmente E mi sono diplomato Pronti? Ricette Ricette che vi devo dire, ce ne sono tante Ma tante per davvero Se ne volete una bellina bellina Vi do la ricetta della frolla La frolla fatta per bene 240 grammi di burro 120 di zucchero a vero O semolato se lo vuoi un po' più croccante Due tuorli, 360 di farina La bacca di vaniglia, immancabile La scorzetta del limone Facile, facile, facile Vieni da me Ho fatto il programma con Caterina Balivo Molto bellino, mi è piaciuto tanto E nulla, è stata una bella esperienza Prossima Take me out Take me out Cosa? Ho fatto una piccola ospitata L'anno scorso Programma un po' così Katia Follesa Katia Follesa è l'amica del cuore Ormai siamo partner A livello di business Insomma si va in giro per l'Italia A mangiare dolci Ci si diverte tanto Abbiamo un'amicizia grande Ci sentiamo quasi tutti i giorni E mi fa schiantare dalle risate Bake Off Stiamo registrando adesso Bake Off La nuova stagione E ci saranno tante sorprese Perché quest'anno è cambiato un pochino di cose Quindi molto bellino È fidanzato Quello è top secret Penso che la vita privata Insomma è importante Che uno se la tenga Soprattutto quando sei nel Nel mirino Insomma tutti i giorni Penso la vita privata È la cosa più importante L'unica cosa che ti rimane Insomma Pasticceria a Milano Abbiamo aperto questo Bake Off Cafe Dove l'ho gestito tutto io Era un pop up store Per otto giorni È stata una bellissima esperienza E ho avuto tantissime soddisfazioni Chissà magari in futuro Fratello Fratello Il mio fratello Massimiliano Massi per gli amici Massi per me È la persona che devo tutto Mi ha insegnato a fare il pasticcere Mi ha insegnato tantissime cose È più giovane di me Ma è da quando Ha 14 anni che fa il pasticcere Li voglio un bene grandissimo Per me Siamo fratelli Insomma Non c'è persona più importante per me Ha figli? No Non figli Nulla Non per adesso TV TV Ho tanti progetti adesso Sto facendo Bake Off Cake Star tornerà per la terza stagione Con Katia Follesa Si renderà in giro per tutta l'Italia E chissà progetti futuri Se arrivano Benvengano Dolci Dolci per me Ce ne sono tanti A me piace tantissimo la pasticceria classica Però Renderla un po' contemporanea Quindi mi piace prendere un classico E renderlo moderno Ricetta tiramisù La mia mamma mi ha insegnato a farlo Nella maniera classica Insomma I tempi sono un po' cambiati Adesso Sono io che gli faccio vedere la mia mamma Come farlo Lo faccio un pochino diverso Io faccio una pata bomb Quindi monto Prima il tuorlo Acqua e zucchero a 121 Faccio lo sciroppo di zucchero Verso a filo dentro il mio tuorlo Che sta montando Pastorezzo l'uovo Incorporo aria Rendo vellutato e molto areato il mio composto A questo punto che ho la mia base Aggiungo poi il mascarpone Con la panna semi montata Una bacca di vaniglia Che non ci sta mai male E ecco fatto la mia crema del tiramisù Apple pie Bella Faccio una frolla alla mandorla Limone e cannella Con dentro un tortino cuore morbido E al di sotto del tortino Tra la frolla e il tortino morbido Metto una confettura di albicocca Che dà un po' di acidità Spettacolo Boom Cheesecake Cheesecake È un altro grande classico del mio repertorio Si fa un bel frullino al cocco sotto Con un pan di spagna dentro Un biscuit senza glutine al cocco Con sopra mango e frutto della passione caramellato Una crema al formaggio e mascarpone con bacca di vaniglia E al di sopra un bel gele frutto della passione e mango Tatuaggi Tatuaggi ci no un pochino ci no eh Più di uno C'ho questo qua con il mio migliore amico È una frase che ho scritto io Che dice quello che non è l'amicizia E dice alla fine la nostra invece è tutta un'altra storia Matrimonio 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 Faccio tante sorte da matrimonio Non per il mio Ma per tante persone E boh Chissà un giorno Vedremo Nella vita tutto è possibile Il mio primo libro in italiano Racconta un po' degli ultimi anni della mia vita Degli ultimi 15 anni della mia vita Corsi Corsi li faccio almeno 2-3 tutti gli anni Dove io insegno nelle scuole di pasticceria Quella che insegno più spesso è alla Fugar All'arte dolce Al Rimini Beh Come è diventato famoso? Famoso è una parolona E come sono arrivato a dove sono adesso? Beh Lavoravo in pasticceria in America Ho fatto il programma da concorrente Sono arrivato a un finale Poi mi hanno chiesto di fare subito un altro programma E poi ho iniziato a fare il giudice Ho fatto il giudice in diversi show americani Poi mi è arrivata una chiamata dall'Italia Per chiedermi di fare il giudice a Backoff Italia Quanto guadagna? Quella è una bella domanda Quanto spende più che altro Con tutti i debiti Perché il guadagno Ovviamente quando sei nella Fossa del Leone Il guadagno Prima c'è un investimento Poi arriva il guadagno E per adesso sto soltanto spargendo i semi Il guadagno si guadagna poco Perché veramente io investo sempre nel mio futuro Investo per la mia famiglia E cerco sempre di crescere Un saluto grandissimo ai lettori di Fanpage È stato molto divertente Mi sono divertito tantissimo Grazie, grazie, grazie Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao